musica cazzo ci sta sta starboard scotta tantissimo cacchio ho sbagliato dovevo prendere qualcosa da appoggiare sotto ok vai togli la busta la busta oh no ho sbrodolato che cazzo hai fatto ho sbrodolato ma perchè sbrodola così tanto tieni la pensi di fare con due scopi cosa devi fare? dai dai che cosa fai? vai aspetta ciao ciao amici sono jack nobile come state? tada ahahahahah ma tu hai visto la tazza contemplation? cazzo non l'hai mai vista eh? guarda è partita alla bastoviglia ciao ragazzi come state? è venuto in un nuovo video panni stelle non ci ha pagato panni stelle non ci ha pagato vi auguriamo buon natale oggi è la vigilia la vigilia oggi è la vigilia della vigilia spettacolo bellissimo e questo come l'hai chiamato? benvenuti in un nuovo video ragazzi siamo qui oggi una molletta una molletta nooo allora ragazzi per questo video regaliamo 5 mazzi a 5 persone diverse che sono due phoenix blu standard quelle nuove non so se le hai mai viste sono uscite quest'anno due signature series sempre delle phoenix queste sono molto carine e un white flower ok? 5 persone potranno portarsi a casa un premio diverso e i 5 vincitori li do su telegram quindi seguitemi lì cosa importantissima per vincere questi mazzi non dovete commentare ma dovete fare un video di voi che fate un gioco di magia così io proverò a vedere chi di voi ha fatto un gioco di magia molto molto figo molto bello ben strutturato l'unica regola è quella di scrivere nel titolo contest natalizio jack nobile nulla di più che così io posso trovarlo il video lo potete caricare su youtube se vi è comodo potete caricarlo su instagram se vi è comodo potete caricarlo su twitter se vi è comodo la cosa importante è il titolo e se lo caricate tipo su instagram e su twitter mettete l'hashtag contest natalizio di jack così io so che li avete pubblicati lì e posso ritrovarli quindi 5 persone ci portano a casa queste cose buon natale per questo video noi beviamo un po' di tè e facciamo qualche gioco di magia chi inizia? inizio io? inizio io? inizio io Lorenz il primo gioco di oggi è questo è basato mescolare le carte per esempio mescolando eeeh perfetto ed è basato sul jolly il jolly mi darà una grande una grande grande una grande due caracchie una grande mano eccolo qua ok? il jolly è una carta simbolo del mazzo di carte come voi ben sapete ed è in grado di trasformarsi in tutte le carte io la lascerò all'interno della scatolina ok? che non toccherò più la cosa più importante però è che si veda ok? che lì fermo e immobile non tocco più ok ora ti chiedo di hai già mescolato le carte? dai un altro mi scuglio ok come si dice? per essere sicuri per scaramazzia per scaramazzia no? giusto? ok e cosa fondamentale ti chiedo di dirmi stop ok quando vuoi stop 1 1 2 3 4 quattro quattro? no il gioco è mio scelgo tre ok ok perché una sarà una predizione ok che però è già fatto ah il jolly il jolly era una predizione ah era una posizione il jolly si ok basta passarlo sopra trasformare un 10 e ora qui c'è un 10 un altro 10 e ora no eh che ricordo che ho fatto il proprio che ho messo la scatolina non c'è nulla di burla ma non vengo 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 ci sta no? maaaa pollo allora fratello mescola fai un ragazzo eh zio fratello mescola 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 ok adesso ti chiedo di fare una cosa semplicissima io scorro le carte così o anzi no taglia taglia il tuo vuoi così va bene sicuro questa questa guardala ricordala farla vedere a tutti i tuoi fratelli ok e la lascio dove vuoi perfetto e ora mescola ti giuro perché tanto non la troverò io sai che la troverà? dove? non sai chi la troverà? no la troverà lei sai che carta è? no non la tua ma non la troverà? no questa carta la troverà lui il pallino blu no aspetta non era il gioco del pallino blu era il gioco del pallino giallo esatto esatto adesso me lo ricordi ok la trova il pallino giallo in che modo? c'è il pallino giallo tagli hog З una china di post questa ci sta no? ciao ma c'è questo che è sempre stato qua con un mazzo di carne di carne? vai quindi una questa è forzata quindi questo mi piace? si ok mettila più o meno dove vuoi più o meno dove voglio non qua perché non è dove voglio cosa? mi spermi da dentro va bene mi piatta più o meno ottima la senti ma sotto non è più o meno io di pensare numero da 1 a 52 quello che vuoi è un numero grande proprio ok grande dai dimmi un numero 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 10, 11, 12, 13, 14 ti ammazzo vuoi cambiare? no per la prima volta ti chiedo qual era la tua carta devo dirtelo veramente? 4 di fiori 4 di fiori in quattordattima posizione numero solamente pensato oh schifo bello è un'altra bello bello è stecca è venuto bene anzi la stecca proprio ok adesso ti farò un gioco impossibile mescola allora ti chiedo di pensare ad una carta qualunque anzi per essere ancora più casuale possibile ti chiedo di prendere il tuo mazzo di carta di mescolarlo perché questo mazzo mi aiuterà ritrovo la tua carta questo invece servirà soltanto per sceglierla nel modo più casuale possibile dove non posso manipolare e toccare nulla ok la prendi quella che vuoi la guardi e la ricordi la fai vedere ok e quando hai fatto la metti via ok la metto in mezzo al mazzo? la metti dove vuoi l'importante è che ce l'abbia solata in mente serve soltanto per scegliere una carta questa cosa ok così io non posso aver toccato manipolato ho fatto nulla no? si ora provo a capire qual è la tua e vado dentro il mazzo a sensazione si si potrebbe essere potrebbe essere o questa oppure questa però questa no non è niente questa allora per forza è questa 5 di quadri non è la tua? veramente? non è la tua? il 5 di quadri non è la tua? ragazzi vabbè in questo caso non so veramente cosa fare però posso chiedere aiuto alla magia ok ragazzi questo era l'ultimo gioco tipo così abbiamo fatto questo video molto cazzeggio bevendo il tè e speriamo che vi sia piaciuto abbiamo uno spettacolo tra poco e dobbiamo andare a prepararci quindi mandiamo un bacione e noi ci vediamo al prossimo video ragazzi grazie per aver visto questo video lo spettacolo è andato bene siamo saliti sul palco con la scopa facendo finta che sia Jacopino è andato da Dio e vi auguriamo buon Natale buone feste a tutti quanti partecipate a questo contest perché alla fine io posso vedere i vostri video posso vedere anche robe nuove qualche idea qualcosa di qualunque tipo e in bocca al lupo e i migliori 5 si aggiudicheranno 5 mazzi di carte quindi spero che questo video natalizio vi sia piaciuto domani è Natale fate la festa come preferite mangiate strafogatevi io e Lorenz ci strafogheremo di torta al cioccolato torta e pollo e come regalo ulteriore di Natale vi lascio in questo video il link per il mio secondo canale dove lì faccio solo magia così a cazzeggio non voglio gente che chiede tutorial non voglio gente che mi rompa le balle su quello che devo fare su quel canale porto solo video fatti con il cellulare ok quindi il mio regalo ulteriore di Natale è quel canale lì con un sacco di idee un sacco che stanno per arrivare un sacco di idee perché adesso abbiamo registrato soltanto 5 video e basta mi mandiamo un bacione buon Natale divertitevi e noi ci vediamo al prossimo video che sarà stasera il vlogmas ciao ciao vlogmas pollo